Musica Attenzione signori e signori perché la prossima intervista è un'intervista veramente inedita andremo ad intervistare colui che non si aspetta di essere intervistato è il vice capitano dei Magna Galli Cantera, la seconda squadra appunto dei Magna Galli e parliamo di Simone Vallarelli, un uomo, un perché eccoci seguiti eccoci qua, scusate ragazzi, vorremmo intervistare un uomo, un perché il nostro Simone Magna Vallarelli che ci parlerà appunto dei Magna Galli Cantera Progetti per il futuro arrivare sicuramente almeno ai primi 4 posti il massimo sarebbe una finale con l'altro Magna Galli leader Magna Galli a e si infatti vinceremo almeno uno dei due speriamo di vincere puntiamo a qualche premio e poi non so cosa dire non so cosa dire sì, eccoci, eccoci questa intervista veramente da Pelle d'oca ridiamo subito la linea allo studio, grazie, ciao no, no Grazie a tutti.